Di solito vado più forte di notte che di giorno. Perché non vedi e quindi venga... Perché non vedo, no? No, perché? Perché comunque noi abbiamo Dunlop e a temperatura più bassa, quindi calcola magari, tipo alle mani, con 15 gradi d'asfalto, c'hai un po' più grip. Quindi comunque sia quando arriva notte tu hai già fatto 100 giri, quindi la pista comunque la sai a memoria, più di 100 giri. Comunque la pista la sai molto bene, quindi i riferimenti... Ti cambia un po' di notte, però fai 20 giri e poi capisci come funziona. Io giro più forte di notte che di giorno.